I VibraFlow sono sistemi dinamici di estrazione a lama d'aria per lo svuotamento di silos e tramoggia. Possono essere installati all'interno o all'esterno del contenitore e vengono utilizzati per facilitare lo scorrimento di materiali verso lo scarico. Come funziona il VibraFlow? Il VibraFlow immette aria compressa in un'area circolare all'interno della tramoggia per creare una lama d'aria tra la parete del contenitore e il materiale. La lama d'aria taglia i punti di appoggio del materiale sul silos o sulla tramoggia e inelgevola lo scorrimento fino al completo svuotamento del contenitore. Completato lo svuotamento, la leggera vibrazione del VibraFlow garantisce la completa pulizia della tramoggia. Quando si utilizzano i VibraFlow? I VibraFlow sono dispositivi ad alto rendimento, resistenti all'umidità e di semplice installazione. Sono utilizzati nel caso di materiali che hanno la tendenza a impaccarsi. Sono particolarmente indicati per materiali in polvere, ad esempio bentonite, cenere, farina, cemento, felspato, soda, caolino e alluminio. I VibraFlow sono idoni anche per prodotti alimentari.